Mi piace un sacco la nuova mano Basta con questa storia, l'uomo meglio nel cestino E' una persona interessante al fianco Vorrei incontrare uno dei tre ragazzi con i quali ho conversato Un certo Yuri Ormai si, sono pronta a trasgredire Sempre di più C'è una busta per me Cara Manuela, lascia che le luci del palcoscenico si accendano su di te Esibisciti come mai prima d'ora Ricordati che nella vita non si può sempre recitare Ma quando l'occasione si presenta, bisogna essere numeri uno Ciao Honeywild Ciao Izzy Non ti aspettavi di trovarmi? No, così bella poi E c'è una sorpresa Questa sera ti devi esibire Che bello Davanti al pubblico Oddio Sei emozionata? Ero carica di adrenalina e anche di imbarazzo Signore e signori Ladies and gentlemen A voi stasera Honeywild 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 Grazie a tutti È più donna, è più sexy, è più intrigante Non ho parole Un bacio lo voglio, casto Sì, questa volta casto Bravissima, complimenti Credo che Manuela sia una donna con la quale vale la pena di passare del tempo e di conoscerla Un bel po' di sere insieme Sei rimasto sorpreso? Sì, brava, complimenti Beh, vediamoci Dai, volentieri Mi ha fatto piacere rivedere Yuri oggi Secondo me mi ha dato la sufficienza Il voto che ho dato a Manuela la prima volta credo fosse 5++ Oggi... Oggi Manuela merita un 9 E vorrei aiutarla ad arrivare a 10 And I love someday that'll all turn up And enjoy Grazie per la visione!